signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale ci stiamo avvicinando al finale di stagione quindi mi sembra il caso di fare un discorso che riguarda l'argomento principale di cui abbiamo parlato quest'anno la stagione è stata dedicata alla pratica dello scrivere e portare in tavola una quest e quindi l'argomento principale è stato fondamentalmente l'automiglioramento del master per quanto migliorare costantemente se stessi è di primaria importanza per un master non voglio dare l'impressione che quello su cui dobbiate concentrarvi esclusivamente sia quello che sarete in grado di fare un giorno voi come master avete una responsabilità di gestire e intrattenere il gruppo con cui state giocando in questo momento con la quest che state portando al tavolo in questo momento diciamo quindi che è arrivato il momento di fare un discorso e parlare di come utilizzare le proprie capacità attuali diciamo che potremmo riassumere l'intero video nella frase conoscete voi stessi ma voglio utilizzare il mio quarto d'ora del vostro tempo di questa settimana per fare un discorso un attimo più approfondito mi capita abbastanza di frequente che qualcuno dopo aver visto un mio video mi scriva nei commenti o anche soprattutto in privato dicendomi che ha le prime esperienze del masteraggio che guardando il video ho avuto un'idea geniale ma che non ha la più palida idea di come portarlo al tavolo ora prima di tutto voglio rassicurarvi ho avuto un'idea geniale ma non ho idea di come portarlo al tavolo e la condizione normale del master il 90 per cento del vostro tempo come master sarà impegnato dal avere idee meravigliose e non sapere come realizzarle il restante 10 per cento lo passerete a sfogliare manuali perché vi ricordate che da qualche parte è scritto qualcosa ma non vi ricordate che cosa e dove sta scritto cercare di rendere ogni quest che fate migliore della precedente è sacrosanto anzi ogni master dovrebbe puntare proprio a questo ma il processo di automiglioramento è qualcosa che funziona solo se viene fatta per gradi se avete cominciato a masterare da poco magari questa è proprio la vostra prima esperienza come master semplicemente non avete ancora le capacità per gestire una quest che duri diversi anni e con una dozzina di regole varianti all'interno questa non è una cosa negativa anzi è normale tutti i master sono partiti da non saper fare assolutamente nulla e man mano col tempo sono diventati più bravi magari c'è chi ci ha messo più tempo e chi ci ha messo meno tempo ma nessuno è arrivato al tavolo con l'infusione divina della conoscenza all'inizio concentratevi su quest molto brevi veramente molto brevi qualcosa sulla falsariga degli avventurieri partono da un posto vanno in un altro fanno una cosa tornano indietro la classica quest del il sindaco della città dice che goblin hanno rapito i bambini andate nella grotta uccidete i goblin salvate i bambini riportateli in città quello è esattamente il target che dovreste porvi nella vostra prima quest non sarà sicuramente la quest per cui verrete ricordati negli anni e che i giocatori racconteranno a ogni volta che vi incontrate ma tanto la vostra prima quest non sarà sicuramente il vostro capolavoro partite dal presupposto che le cose che dovete imparare all'inizio riguardano più che altro la tecnica dovete imparare a gestire i tempi della sessione dovete imparare a gestire le reazioni dei giocatori e soprattutto dovete imparare come funzionano le regole leggere un regolamento è fondamentale ma finché non lo vedete applicato in gioco non avete un'idea reale di come quel sistema funzioni soprattutto perché voi non giocate da soli e anzi la maggior parte della quest verrà in realtà giocata dai giocatori voi avete più che altro un ruolo di controllo e di stimolo nei loro confronti utilizzate questa vostra prima quest anche per osservare molto bene i giocatori e capire le loro reazioni nelle varie situazioni questo è un passaggio fondamentale su cui molti master sbattono violentemente la faccia alla loro prima esperienza la quest non va come voi l'avete pensata la quest non funzionerà mai per come l'avete scritta questo è un caso che non si verifica mai mai invece di cercare di far girare in tutti i modi la quest per come voi l'avete pensata all'inizio che non vi procurerà altro che problemi al fegato lasciate andare la cosa fate proseguire la storia per come il party sembra voler fare e sfruttate l'occasione per imparare che cosa quel gruppo vuole che cosa quel gruppo piace quando vedete i master più esperti che sembrano impassibili di fronte a qualsiasi cosa faccia il gruppo mantengono sempre il controllo e non sembrano essere mai impensieriti di nulla non hanno sviluppato poteri sovrannaturali o capacità sovraumane semplicemente nel corso degli anni per cui hanno masterato la quest gli è deragliata talmente tante volte e in talmente tanti modi che oramai è proprio statisticamente difficile che il gruppo possa fare qualcosa che loro non abbiano in qualche modo già visto e magari già cercato di risolvere in un paio o più modi diversi semplicemente rimangono freddi e in controllo perché tutto quello che poteva capitagli gli è già capitato e quindi non stanno neanche più improvvisando stanno semplicemente ricordandosi come hanno risolto la cosa precedentemente e quale delle situazioni che hanno applicato per risolverla si adatta meglio alla situazione che hanno davanti in questo momento non fatevi neanche problemi a chiedere ai giocatori come secondo loro stia andando la quest che cosa avrebbero preferito che venisse fatto diversamente non è necessariamente detto che questo vi è effettivamente delle risposte corrette voi non siete infallibili neanche i giocatori sono infallibili però questo vi permette di accumulare sempre più esperienze e aumentare il vostro repertorio di possibili uscite da situazioni in cui il gruppo è andato a far spostare la quest che voi non vi eravate preparati in precedenza al di là di questo col passare del tempo con il passare delle quest guadagnerete esperienza ma anche quando mastererete da anni e anni quando avrete raggiunto le decine di anni di esperienza del masteraggio questo non vuol dire che dobbiate perdere di vista quali siano le vostre effettive capacità personali non tutti i master sono ugualmente bravi in ogni campo dell'arte del masteraggio questo in realtà vale per qualsiasi campo velocibile umano in realtà cercate di capire che cosa vi riesce meglio e che cosa vi viene più facile e puntate su quello quando voi andate a preparare le vostre quest se voi siete un master che ad esempio non ha tempo perde velocemente interesse in quello che fa non vi mettete a progettare una quest che duri due anni fate qualcosa di più breve che duri qualche mese se voi siete un master che non gradite particolarmente i regolamenti pesanti e macchinosi cercate di evitarli come sistema in riferimento quando scriverete le vostre quest vale anche al contrario se voi siete particolarmente abili in qualcosa magari siete appassionati di un determinato periodo storico e quindi conoscete molto bene come era la vita in quel periodo storico cercate un gioco che sia ambientato in quel periodo storico la vostra quest risulterà sicuramente molto più verosimile che quella stessa quest ambientata in un periodo storico che conoscete meno sfruttate tutte le vostre capacità personali e i vostri interessi se siete amanti dei film horror scrivete quest horror probabilmente vi verranno meglio se nella vita fate il meccanico mettete delle quest in cui guidare le automobili sia una parte importante perché probabilmente sapete molte cose in merito ed è più facile che vi vengano in mente idee interessanti sulle automobili rispetto a qualcos'altro al di là di tutto poi cercate di avere una visione imparziale sul vostro lavoro fatto fino a quel momento e anche in questo caso chiedete ai vostri giocatori che cosa secondo loro vi è riuscito meglio per tutto il tempo con cui avete masterato con loro e cercate di capire da questo che cosa è quello che vi viene meglio vi viene più facile e cercate di puntare le vostre quest non solo ma possibilmente anche in quello specifico ambito diciamo che per questo video è tutto noi ci vediamo la settimana prossima con il consueto video di storia che chiude ogni stagione quest'anno con qualcosa di abbastanza particolare spero che il video sia stato di sprone o almeno di conforto a tutti quelli che hanno cominciato da poco a masterare o che nonostante i loro sporsi vedano che gli manca ancora un sacco di strada per arrivare là dove vogliono arrivare non preoccupatevi nessun master è un genio è semplicemente una questione di applicare metodo e costanza e sviluppare l'abilità comunque se avete delle domande specifiche in merito scrivetemene qua sotto nella sessione dei commenti come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master kai noi ci vediamo nel prossimo video